Ciao, benvenuti su Cartisia! Oggi farò vedere come realizzare la glassa all'acqua, utilissima per glassare le vostre torte, le vostre ciambelle, bignè e altri tipi di dolci. Vediamo subito di cosa avete bisogno. Acqua bollente 80 g di zucchero a velo Per prima cosa, setacciate lo zucchero a velo, per evitare grumi. Dopo aver setacciato lo zucchero a velo, aggiungo l'acqua bollente poco per volta, quindi aggiungiamo due cucchiaini. E andiamo ad amalgamare subito il nostro zucchero a velo con l'acqua. Bene, adesso aggiungiamo un cucchiaio e andiamo subito ad amalgamare il nostro zucchero a velo. Come vedete, la nostra glassa all'acqua è già pronta. Si prepara davvero in pochissimo tempo e questa è la consistenza che dovete ottenere. Se volete una glassa all'acqua colorata, dovete solo aggiungere del colorante alimentare. Quindi potete usare il colorante alimentare in gel, in polvere o liquido. Quindi aggiungete qualche goccia e colorate la vostra glassa all'acqua. È una consistenza morbida e cremosa. Per decorare i vostri dolci, utilizzate semplicemente il vostro cucchiaino. Quindi glassate i vostri dolci con il cucchiaino. Ad esempio, io ho glassato così le mie ciambelline. Io spero che questo video vi piace, ma soprattutto spero che questo video vi sia utile. Come vedete, realizzare la glassa all'acqua è davvero semplicissimo. Iscrivetevi perché ci sono davvero tante video ricette super golose in arrivo. E se volete, potete seguirmi anche su Facebook oppure su Instagram come Ricette Golose di Cartesia. Io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Baci da Cartesia!